Si è accesa la biosfera di Pesaro in Piazza del Popolo, seppur con un leggero ritardo rispetto a quanto preventivato. A causa di un piccolo imprevisto, l'inaugurazione ufficiale infatti è slittata da sabato a domenica. Un inconveniente non voluto ma quasi fortunoso, visto che la pioggia del giorno prima, che comunque non aveva scoraggiato i pesaresi nell'avvenire in piazza, ha lasciato spazio ad una bellissima giornata di sole che ha portato oltre 4.000 cittadini ad assistere all'evento. È stato molto emozionante, tante persone che hanno guardato davvero con sorpresa uno spettacolo audio luci unico che ha dimostrato quante potenzialità ha questa sfera. Questi sono i primi tre contenuti, ma in futuro se ne potranno fare tanti altri e soprattutto è una sfera che funzionerà tutti i giorni e quindi sarà un'attrazione nell'attrazione e poi rimarrà Pesaro e quindi diventerà un nostro simbolo e diventerà il simbolo che lancia Pesaro nel futuro, nella modernità. Un'idea di Vimini è quella di ragionare sulla sfera perché c'è un filo conduttore che lega modernità e storia. La modernità della sonosfera con la biosfera, la storia della palla di pomodoro, della sfera di pomodoro, la storia della nostra città dal punto di vista sportivo, in particolar modo il pallone da basket che tutti hanno, con il quale palleggiano da quando sono piccoli, il sole che tramonta sul mare in quel mese e mezzo straordinario dell'estate dove siamo una delle pochissime realtà nell'Adriatico che vedono il tramonto sul mare, ma è anche la ruota della bicicletta, la ruota della motocicletta, se vogliamo anche la pista Rossini e quindi è un simbolo che ritorna, non a caso questo palco l'abbiamo allestito con una copertura sferica e non a caso la biosfera è stata la scelta, è davvero un oggetto che lancia Pesaro nel futuro e nella modernità. È stato un progetto lavorato anche con tutti i partner, le due università che sono delle marche, l'Università di Urbino e l'Università di Ancona. Insieme hanno creato questo progetto con tutti i partner che sono 17 e è stato vinto questo bando e quindi sono arrivati a Pesaro questi 11 milioni e 300 mila euro. Questo oggi è il primo progetto che vediamo proprio in concreto che i cittadini possono toccare, poi nei prossimi giorni ci saranno anche nuove inaugurazioni dove la Casa delle Tecnologie ha comunque lavorato per tutta la parte tecnologica e innovativa. Questo è un lavoro di circa otto mesi di pianificazione tra varie fasi del concorso per idee, siamo giunti appunto a questa ultima versione del progetto dove abbiamo materializzato tutto dalla progettazione all'ingegnerizzazione e quindi lo sviluppo dei software per poter integrare appunto vari flussi di vari prodotti che arrivano un po' da varie parti del mondo, dalla Cina per quanto riguarda i led, le strutture sviluppate in Italia, tutto il software sviluppato in Italia e la parte sensoristica che ci aiuta appunto a acquisire i dati per tutta la parte machine learning AI che va a alimentare quelli che sono i contenuti dinamici e interattivi del progetto.